Questa è una zona fertilissima. Eh, eh, questa è la campagna di Felicisi, di antichi romani. Però che si troppe la colpa, vieni. E' una parte della camera che è rimasta che si è riempita. Guarda che ci sta. Cioè, quindi erano rifiuti in pratica? Eh che sì. Certo che erano rifiuti, ci stanno ancora i covi. Sì, sì. Premo patrici, dei silvi tutti in maniera. Sì, sì. Sì, sì. Quella superlevata è stata fatta con il terreno tolto da legato. Sarebbe l'asse di supporto, la nuova Villa Literno. Eh, eh. Sono state scavate fino a che altezza? Sì, fino a che profondità. Hanno rotto il tufo. Quindi sono levata la falda acquifera. Quindi? E' uscita l'acqua fuori? In centimetri acqua. Poi hanno messo il terreno e poi rifiuti? Poi hanno messo il rifiuto. Ecco che poi il terreno a coppia ne capitava. Questa è la cava riempita. Ma qua sta sotto questa perché sta scavata quasi 10 metri. Terminava qua la cava? Qua termina qua. La cava terminava la cava. Sì, questo è il tono con la vita. Ecco. Perché poi ci hanno costruito, hanno autorizzato a costruire il consorzio sopra. Eh, eh. E il sindaco... Avranno fatto dei carotaggi per capire se il terreno... I direttivi ce l'hanno autorizzato da costruire. Senti, ma lei ha letto che ogni tanto qualcuno scrive su internet che qui ci hanno buttato i rifiuti tossici. Poi tra l'altro le dichiarazioni del pendito, schiavone che dice... No, non lo so. Noi le abbiamo riempite, tutte le cave che abbiamo utilizzate per la nuova Villa Literno, le abbiamo riempite di rifiuti tossici. Questo non lo so. E' una cosa che ci preoccupa. Qua ci stavano le cave e questa cave è un residuo che sta ancora qua. Vedi? 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 Vedi che hanno scaricato. Ma sotto che non ce l'hanno, non lo so. Ci hanno buttato i rifiuti tossici. Ci hanno buttato i rifiuti ospedalini, erano arrivativi, non lo so. Comunque erano rifiuti? Voi avete memoria storica di aver visto comunque dei rifiuti che c'erano? C'è? C'è? Stanno da fuori i rifiuti, i rifiuti. Vedi o no? Eh? I rifiuti del tempo mischiato, vedete o no? C'è? Eh eh. C'è anche. Qualc'è? Quando hanno costruito quel trapannone, hanno dovuto fare i palli perché non si scavava c'era la monnezza. Esatto. Questo dicevo. Eh eh. E questo. Hanno fatto dei sondaggi no? Immagino quando uno così... Hanno scavato e volerlo scantinare. Vabbè. Eh. Non dove scavare c'era la monnezza. Se non doveva fare i palli non poterlo fare. No, questa è una strada comoda. Questa. Perché la strada veniva così e proseguiva. Questa è una strada? Una strada. Questo è il terreno privato. Senta ma in tutto ciò qua comunque è un disastro questo che abbiamo visto. Ma i medi americani... Ma sono 10 anni che sono a dire che è un disastro. Sono 10 anni. Ma di tutto ciò in linea d'aria gli americani quanto distano da qua? Io mi dico la strada. Senta ma... 800 metri, un chilometro. Questo è Edernit qua. Che cosa chiamiamo? Chiamiamo. Chiamiamo. Ma che c'era la torsa? Quanto c'era la strada? Non c'era la strada. 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 Sì. Quindi tutto questo era una discarica? Sì. Lei dov'è che svolge la propria attività? A Cricignano, i contadini prima tutelavano il territorio perché erano dei comunitari quindi io che ero proprietario di questo fondo guardavo e tutelavo il fondo vicino quello vicino tutelavo in me, ma adesso che... C'era l'autocontrollo? Ecco, i contadini sono stati straticati dal territorio, perciò il territorio ha fatto questa fine quindi sarebbe opportuno che i politici si impegnassero a far sì che il popolo diventasse un popolo di comunità per tutelare il territorio, la loro vita e l'avvenire dei figli e dei riporti Grazie a tutti Grazie a tutti